allora un video fatto un pochino in maniera diverso sono sono sul divano che comodamente seduto divano perché diciamo è la mia postazione preferita per quando devo devo leggere quindi volevo portarvi un attimino la questione di quando accumuliamo materiale da leggere no quindi insomma mi sono trovato un po di materiale un po di arretrato da leggere quindi volevo farvi conoscere quali sono i miei fumetti che stanno dietro con le letture e che sto leggendo in questi giorni capita perché di solito prendo delle opere di osamo che sono dei malopponi e quindi quindi lo leggo in più giorni oppure quando prendo delle qualcosa di arretrato e oppure qualcosa che mi ricorda un po il passato che mi va di rileggere e quindi che compro i mercatini e quindi insomma in qualche modo in qualche modo le recupero e li leggo allora in questo momento naturalmente ho recuperato a poco prezzo come vi ho già detto i insomma i tre giganti primi tre giganti a 2 euro 2 euro e 50 l'uno mi sembra di nata never che secondo me vale la pena acquistare vediamo se riesco a farlo vedere questo il primo e che ho già letto tra l'altro mi tocca leggere il secondo che questo sono dei giganti metti bellissimi a far vedere poco perché insomma sono proprio messo comodo ok e questo il terzo quindi dovrò leggere ancora secondo il terzo mi ci va qualche giorno sicuramente queste sono letture dei prossimi giorni poi naturalmente o il i due numeri di zero man di osamu questo e questo ve ne ho già accennato io ho già accennato qualcosa ho iniziato a leggerlo questo zero man e naturalmente io di solito mi piacevano parecchio gli ultimi le ultime opere di osamu posso dire che comunque sto apprezzando ultimamente sto apprezzando anche queste opere forse anche perché appunto la guenne ce le mette in queste confezioni le prime opere di osamu da che va dagli anni 50 agli anni 60 agli anni 60 questo perché non so mi danno quell'impressione di cartone animato del passato no io a me piacevano molto queste che ne so tipo simbad queste animazioni che faceva la toy no la toy animation negli anni 70 mi ricordano molto quelle animazioni questi volumoni queste opere di osamu le prime opere di osamu quindi quindi è una piacevole lettura e inizio ad apprezzarle anche anche quelle opere lì un'altra lettura che sono indietro naturalmente ho fatto anche di questo un video il secondo numero di ratman saga questa qua ho già messo da parte il numero 3 come sapete io lo lo prendo mensilmente me ne faccio mettere da parte dal mio fumettaro ultima ultimo recupero sono indietro è l'anastatica del diabolic nel senso che sono rimasto un pochino indietro come sapete ho fatto l'anastatica e mi sono fermato al numero come potete vedere 50 uscita 50 poi è segnato come 51 e e quindi niente mi mancano da leggere 2345 sei numeri di questa di questa anastatica che avevo preso anche di questa vi ho già parlato diabolic non è un fumetto che mi esalta più di tanto diciamo che ho deciso quest'anno di prendere una stagione intera per affiancare a questa storica è un c'è un fumetto che che si lascia leggere ma che in realtà in realtà dimentico anche molto facilmente la lettura mi piacciono molto le copertine da grafico mi piace vederle insomma sono veramente ben fatte quindi insomma ottenere anche una stagione mettendola a confronto con questa bellissima anastatica secondo me è una buona idea comunque la cosa bella appunto di diabolic è che si può leggere praticamente a stagioni quindi sono 12 numeri all'anno poi con questo è tutto volevo giusto condividere con voi alcune letture che sto facendo in questi giorni che naturalmente mi ci va un pochino per smaltire ok ciao ragazzi